Musica Benvenuti a un nuovo appuntamento con la rubrica Il Consiglio regionale della Toscana. Siamo qua a Firenze, a Palazzo del Pegaso, per seguire la seduta del Consiglio odierna, ma noi andiamo a vedere subito quali sono i temi all'ordine del giorno nel nostro sommario. Musica Il Consiglio regionale affronta in aula il tema dei crediti fiscali legati al superbonus edilizio, con un atto approvato che favorisce la circolazione dei titoli di credito. La nuova norma è stata approvata a maggioranza con il sì del gruppo del Partito Democratico, di Fratelli d'Italia e del Movimento 5 Stelle e un astenuto del gruppo misto, mentre la Lega non ha partecipato al voto. Nella proposta di legge si stabilisce che gli enti economici regionali e le società controllate da Regione Toscana possano acquistare i crediti fiscali dalle banche da portare in compensazione con i propri debiti fiscali e previdenziali. La legge si applica ai crediti legati sia al cosiddetto superbonus edilizio, sia ad altri crediti che rientrano nel campo delle ristrutturazioni edilizie come il sisma bonus. I crediti che possono essere acquisiti da Regione Toscana sono quelli a favore di imprese del territorio toscano per interventi realizzati esclusivamente in ambito regionale. Noi come Partito Democratico abbiamo voluto richiamare l'attenzione dell'Aula al fatto che non possiamo accontentarci delle scelte attualmente fatte dal Governo, che noi ovviamente critichiamo e troviamo quasi offensive rispetto alle necessità reali della comunità toscana. Non c'è un euro per la Fano Grosseto, non c'è un euro per la Tirrenica, ovviamente bene laddove sono arrivati i finanziamenti, ma sono davvero briciole rispetto anche allo scenario nazionale. Con quest'atto abbiamo voluto richiamare l'attenzione del Governo nazionale e chiediamo impegni precisi affinché questa situazione venga davvero cambiata, perché così è assolutamente inaccettabile rispetto anche alle molte promesse che anche recentemente erano state fatte, faccio l'esempio della Tirrenica, e che non trovano assolutamente corrispondenza in questi atti del Governo nazionale. Abbiamo fatto un lavoro condiviso su una proposta di legge che finalmente consente anche alla Regione Toscana, attraverso le sue società partecipate, non tutte, di poter interloquire con il sistema bancario toscano e quindi farsi parte attiva nell'acquisto dei crediti derivanti dal Superbonus. È stata una partita che si è giocata con estrema attenzione, con estremo equilibrio, tutto questo perché vi era la necessità, condivisa direi, a questo punto lo possiamo certificare, di dare una risposta al settore, quello diciamo dell'edilizia, che davvero si è trovato in estrema difficoltà. Di fronte a un provvedimento che è quello comunque di intervenire su una misura che ha avuto effetti positivi, da una parte sulla crescita del Paese, ma dall'altra ha determinato uno squilibrio sui conti pubblici estremamente importante. È chiaro che l'intervento a tutto sondo del Governo in qualche maniera ha cercato di puntare al contenimento della spesa pubblica, però io credo che fosse importante oggi che l'ente regionale desse una sua risposta. Ci sono dei punti importanti nella legge perché oltre ad aprire questa possibilità, interloquendo con il sistema bancario, lo si fa con la garanzia da parte delle banche della solubilità del creditore, lo si fa garantendo la sostenibilità anche dal punto di vista dei conti della regione toscana, prevedendo un apposito fondo di garanzia nel caso in cui si rivelasse i crediti cattivi, ma in realtà questa è una possibilità che viene sì contemplata, ma che è scongiurata dal fatto che si tratta di crediti certificate e attestati. Abbiamo affrontato in Consiglio regionale i crediti del super bonus da poter rivendere agli enti partecipati. Io sono stato l'unico che ho votato astenzione perché pur essendo stato fatto un'azione di sollecito alla questione di... è stata abbastanza limata ogni parola, però a me non mi convince. Non mi convince perché questo super bonus è stato veramente un pozzo nel quale è sprofondata l'Italia e conseguentemente credo che sia una cosa che pagheremo anche con le generazioni future. Per cui purtroppo ci sono stati tanti magheggi, tante cose che non sono andate al buon fine, tanta gente se ne è approfittata e quindi io credo che la mia astenzione voglia rappresentare un qualche cosa che non è stato sviscerato fino in fondo. La regione toscana con questa proposta di legge cerca di dare un contributo a ovviare ai gravi danni che questo governo ha fatto col blocco delle cessioni dei crediti, per una misura che fondamentalmente è stata una grande occasione per l'Italia per rivalutare e riamodernare il patrimonio edilizio, soprattutto quello privato, con un investimento di 71 miliardi di euro che ne ha riportati quasi 200 di investimenti di indotto, di lavoro, di PIL, ben 6 punti di PIL percentuale. Il grave problema dei crediti incagliati purtroppo non si potrà risolvere con il contributo piccolo che la regione potrà dare dal punto di vista economico, ma è un segnale di rispetto verso tutte quelle famiglie che si sono trovate per il furore ideologico del governo Meloni a trovarsi con degli investimenti fatti e con l'impossibilità di poterli recuperare. Questo è il motivo per cui noi votiamo a favore. E lo ricordiamo ancora, il super bonus edilizio è stata una misura che l'Unione Europea intendeva e intende ancora esportare e che, come loro stessi hanno detto, l'Unione Europea, se fosse continuata, avrebbe potuto generare una ricaduta economica molto positiva nel corso degli anni e soprattutto duratura. Purtroppo questo governo non era dello stesso avviso e ha preferito rovinare decine e centinaia di famiglie e aziende. La Lega non ha partecipato alla votazione di un provvedimento che riteniamo un pannicello caldo e alquanto confuso. Noi abbiamo fatto delle domande molto puntuali per quanto riguarda questa proposta di legge. Abbiamo chiesto quali saranno le società partecipate della Regione Toscana che potranno acquistare i crediti. Concretamente non c'è stata data risposta, se non è veramente molto confusa. Inoltre abbiamo chiesto se il fondo a garanzia del 20% sia sufficiente per garantire la Regione Toscana. Inoltre parliamo veramente di poco, di 5 milioni di euro, quindi veramente un pannicello caldo. E inoltre tengo a leggere proprio la scheda finanziaria la quale dice che la proposta di legge che si sostanzia nella possibilità per gli enti pubblici, economici e regionali per le società partecipate della Regione, che torno a ripetere, non c'è stato risposto, quali che siano, non inserite nelle amministrazioni pubbliche nell'elenco aggiornato ogni anno dall'Istat e di acquistare crediti fiscali dalle banche, e quindi non dalle aziende, non dai cittadini, dalle banche. Quindi 5 milioni per le banche. In questo si concreta questo provvedimento che sicuramente può andare incontro a una esigenza che esiste, che è quella appunto dell'acquisto dei crediti e diritti, ma che non dà soddisfazione e che rimane davvero ben poca cosa. Tel Aviva non ha partecipato a questa votazione, teniamo assurdo il fatto che con risorse regionali si debbano andare a garantire dei crediti che non sono stati in grado di essere riscossi. Noi siamo per un mercato libero dove le imprese si assumono la responsabilità, in primis quelle di natura finanziaria, e non è corretto far rischiare sulle finanze della Regione la riscossione di crediti in evasi, ancor più su misure di bonus che abbiamo sempre ritenuto inopportuni da parte dei governi, in particolar modo di quella dei Cinque Stelle, che hanno voluto introdurre delle normative assurde nel nostro Paese, se pensiamo al 110 e ad alcuni bonus che sono stati introdotti nel sistema economico della nostra Regione. Molto rischioso per le finanze della Regione Toscana assumersi questa responsabilità, e come tale non abbiamo partecipato a questa votazione, e quando abbiamo visto che si tratta di una funzione, di una visione totalmente assistenzialista, dove abbiamo visto varie forze politiche, trovare invece una sintesi trasversale, la nostra concezione riformista e liberale ci ha portato a essere liberi di non partecipare a questa votazione. La Regione Toscana ritorna ad occuparsi di montagna e lo fa con una nuova legge di iniziativa consigliare in materia di soccorso alpino e speleologico su iniziativa della Commissione Sanità. L'atto individua le attività per le quali la Regione si avvale del soccorso alpino e speleologico toscano, al quale viene attribuito un ruolo centrale per le attività di soccorso negli ambienti montani, ipogei e nelle zone impervie del territorio regionale. Viene prevista una convenzione ad hoc attraverso la quale definire nel dettaglio le specifiche attività, quali interventi di soccorso ad infortunati o in pericolo di vita, ricerca e recupero dei dispersi, recupero dei caduti nel territorio montano. Tra le attività anche la prevenzione attraverso percorsi di formazione di chi si avvicina alla montagna e, in qualità di struttura operativa della protezione civile, anche il concorso ad interventi di soccorso nei casi di eventi calamitosi. All'unanimità è stata approvata la legge che disciplina il soccorso alpino e speleologico della Regione Toscana e riconosce il ruolo fondamentale e istituzionalizza il ruolo del soccorso alpino, che è importantissimo in questo particolare momento dove la montagna diventa sempre più una montagna frequentata da turisti, anche dopo la drammatica vicenda della pandemia, per una ricerca di un rapporto, diciamo, diverso con la natura e con l'ambiente e impegna ancora di più gli uomini e le donne del soccorso alpino. Con questa legge noi riconosciamo questo ruolo, ne definiamo i compiti e incentiviamo, diciamo, sia gli aspetti relativi al miglioramento del servizio, sia quelli che riguardano l'informazione ai cittadini e il tema importantissimo della prevenzione. Mettiamo a disposizione un budget economico e valorizziamo il luogo, il luogo del soccorso alpino in modo che sia riconoscibile da parte di tutti i toscani e di tutti coloro che frequentano le nostre montagne. Sono sempre di più i turisti che decidono di andare in montagna in estate, a camminare, in bicicletta, a passeggiare anche con le famiglie, ma anche in inverno sono sempre di più, e io dico, per fortuna, i turisti che decidono di andare in montagna anche in maniera differente da quella classica sull'impianto di risalita, tantissimi quelli che praticano lo sci alpinismo, decine di migliaia in Toscana le persone che ogni fine settimana vanno a giro con le ciaspole. Quindi è giusto che la regione toscana intervenga per legge, come oggi abbiamo fatto, per regolare appunto il soccorso alpino. Intanto ringraziando le tante donne, tanti uomini, con una capacità incredibile, con una preparazione oltre la media, che sono a disposizione appunto di chi va a giro per la montagna e poi mettendo per iscritto alcune norme. Tra queste io ho chiesto, è stata accettata, tant'è che è diventata legge, che sono individuati dei fabbricati da mettere a disposizione il soccorso alpino, dove appunto possono, che possono essere appunto utilizzati per magazzino, per tenere materiale di intervento, penso a una barella, e che possono essere utilizzati anche come luogo di sempre aperto, come luogo di bivacco. È giunto al termine il progetto sulla Carta dell'identità toscana, iniziativa promossa dal Consiglio regionale che ha coinvolto circa 200 studenti di 10 scuole toscane. La scoperta del territorio e della cultura locale sono state il focus del progetto, abbinate al punto di vista delle nuove generazioni. Ne sono nati degli itinerari culturali on the road, proprio pensati dai ragazzi. È stato un progetto molto interessante, un'idea brillante, da parte dell'ufficio di presidenza e vicepresidenza del Consiglio regionale per la Toscana, che ha trovato dei collaboratori nella Fondazione Sistema Toscana e nell'ufficio scolastico regionale che si sono adoperati affinché veramente le 10 scuole provenienti dalle 10 province coinvolgessero al meglio gli oltre 200 ragazze e ragazzi che hanno potuto essere esploratori e narratori del loro territorio. È venuto fuori qualcosa di sorprendente, perché quello che ci ha interessato è capire come l'identità percepita dai ragazzi è un'identità contemporanea che quindi fa base sulla storia, fa base sul paesaggio, ma le rielabora rispetto ai valori della loro generazione. È stato veramente bello e interessante. I risultati si vedono sulla piattaforma, che resta online, aperta, quindi accessibile, e c'è un coinvolgimento pieno. Per i ragazzi è stata la scoperta di cose che non immaginavano. Ho sentito alcuni commenti di ragazzi che sono andati in giro e hanno detto che non pensavamo fosse così bello. Al contempo però è stata una delle prime esperienze semilavorative, nel senso che hanno dovuto organizzare un tour per le scuole che accoglievano nella loro provincia. Quindi hanno iniziato a sperimentarsi con problemi di organizzazione, aspetti di organizzazione e quindi di gestione di un progetto. Grazie a tutti.